Casa Pound Italia è un movimento popolare, fatto di giovani volontari, uomini e donne che hanno grandi idee e la tua stessa voglia di combattere contro ladri, banche e speculatori per restituire la sovranità alla nazione. In pochi anni di attività senza i finanziamenti che ricevono i partiti e puntando solo sulle proprie forze, Casa Pound Italia ha creato decine di strutture nel mondo della solidarietà, dello sport e della cultura. Siamo nati contrastando l'emergenza abitativa, restituendo una casa dignitosa a quelle famiglie italiane che lo Stato aveva prima abbandonato e poi svenduto alle multinazionali del mattone. Quest'anno per la prima volta abbiamo deciso di candidarci alle elezioni, da soli, senza nessuna alleanza, senza accordi e contro tutti. Il 24 e 25 febbraio con il tuo voto, Casa Pound Italia ti chiede di dare un segnale. Vogliamo suonare la sveglia e la carica alla nostra nazione e al nostro popolo. Vogliamo fare della Regione Lazio una roccaforte sociale, un ente impegnato in modo diretto nello sviluppo dell'economia locale, capace di intervenire ed evitare la chiusura di aziende sul territorio. Una Regione che tutela i suoi lavoratori e i suoi cittadini, in grado di mantenere in mano pubblica i servizi sanitari e sociali, fermando così la privatizzazione imposta dall'Europa. Vogliamo valorizzare il nostro territorio e le sue risorse, dotando la Regione Lazio di un sistema di distribuzione agroalimentare che possa collegare i produttori laziali direttamente con i grandi centri urbani, favorire il consumo dei nostri prodotti e limitare la grande distribuzione. Con il mutuo sociale le famiglie potranno avere accesso a una casa di proprietà, in quartieri di nuova concezione, ad un costo sostenibile e attraverso una rata che non passa attraverso le banche. Tagliare tutti i fondi regionali destinati alla politica e destinarli finalmente ai servizi sociali e alla sanità. Una rivoluzione è possibile. È la tua rabbia, insieme alla nostra, che cambierà questo paese e questa regione. Il 24 e 25 febbraio hai l'occasione per cambiare davvero la politica di questo paese e della Regione Lazio. Vai alle urne e vota Casa Pound Italia, l'unico voto utile.